Un imprenditore di Gela, proprietario di due aziende, è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari con l'accusa di non avere versato imposte per circa 4 milioni e mezzo di euro. Nei guai sono finiti anche il commercialista delle due imprese, che non potrà esercitare attività di imprese e consulenza fiscale per un anno, e i rappresentanti legali di altre due aziende, che non potranno assumere per un anno incarichi direttivi sempre a livello aziendale. In totale, a parte i destinatari di misura cautelare, sono nove gli indagati e il GIP del Tribunale di Gela ha anche disposto il sequestro da 4 milioni e mezzo di euro nei confronti di tutti loro. In base alla ricostruzione dei militari della Guardia di Finanza, che si sono occupati del caso sotto il coordinamento della Procura di Gela, i presunti responsabili hanno messo in piedi una vera e propria evasione fiscale attraverso l'indebita compensazione di tributi dovuti, realizzata attraverso la procedura dell'accollo tributario, quindi con la possibilità del saldo di debiti attraverso terze persone, ed effettuando, sempre secondo l'accusa, compravendite di crediti IVA risultati del tutto inesistenti. Le recenti indagini effettuate nel territorio di Gela hanno consentito di recuperare al momento crediti per 24 milioni di euro.